Buon pomeriggio dalla redazione di Florence Multimedia in studio Nicola Giannattasio. Traffico regolare sulla rete autostradale della regione toscana. Rallentamenti ci sono sulla statale 63 del Valico del Cerreto per un senso unico alternato tra Pallerone e il Bivio per Rometta in entrambe le direzioni. In A1 personale su strada per lavori tra Calenzano Sesto Fiorentino e Barberino di Mugello in direzione Bologna. In direzione Roma perdita di carico tra Firenze Sud e Incisa Reggello, pezzi di copertone su strada. Su raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra Firenze in Pruneta e San Casciano Nord in direzione Siena. E per lavori chiuso lo svincolo di Colle Valdelsa Sud. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!